Libera le mani I nostri corresponsabili della missione qui in Sicilia. Questo diventa anche motivo per me, ma non solo per me, ma per tutto l'ufficio del servizio civile, Letizia, Liborio e i vostri colleghi che all'interno dell'ufficio hanno collaborato con noi per salutarvi cordialmente, fraternamente, vi siamo vicini, auspichiamo per ciascuno di voi un buon futuro. Per le vostre scelte future. Questo messaggio diventa l'occasione per ringraziare ancora una volta tutti voi e presentare il nuovo coordinatore regionale del servizio civile, Don Giovanni D'Andrea, che è stato fino ad ora il presidente nazionale della Federazione dei Salesiani per il sociale. Don Giovanni è qui nella nostra ispettoria da quest'anno, lui si occuperà dei volontari del servizio civile in prima persona, oltre ad altri impegni e ruoli che lui assumerà nella nostra ispettoria. Lo ringraziamo per la sua presenza, gli diamo il benvenuto e lui rivolgerà anche il saluto non solo a voi che concludete, ma anche a coloro che inizieranno tra poco il servizio civile con noi. Io mi aggancio a quello che dice Don Domenico, grazie per chi finisce e un benvenuto per chi inizia, che possa essere per chi inizia un percorso da fare assieme in quest'anno, in modo particolare per diventare sempre di più onesti cittadini e buoni cristiani come ci ha insegnato un bosco. Benvenuti e grazie ancora a chi è andato via.